Buongiorno a tutti, oggi faccio questo nuovo video per appunto ringraziarvi di esservi iscritti al mio canale e in particolare voglio ringraziare delle persone che mi sono annotate Allora, Genda Minni, Gianviero Scarpinato, Tampi Kusni, Lorenzo Zerbo, Compliciti Forever, Telefilm e Video Alessa Neculais, Sara Sanovic, Isha La Cresidore CJ, Anthony Dollar, I'm Not Perfect, Sara Bacchini poi Mad Girl, Sara Giorgi, Pausandos Benito, L'Eran Battaglia, Adriano Fracasso, Ciavrotte Sanchiangaria Chiara Coppola, Zoica Zeroteca, Rosquattro Alba, Marcella Babini, Valeria Lanciai, Laura Lullo Maria Stasci in Italiana, Darmiano Luzzi, Rebbi Cuore, Ali Acmi, Sabrina Putta, Marta Stepuk, Andrea Stase, Marti Borbach Simona Murò, Sara Nardi, Giuliana Tassini, Jennifer Di Lorenzo, Teresa Borgesse, Laura Mokajte Nicole Berberi, Anna Signorini, Gheist Tuan, Emma Kammer, Alessandra Teresqua, Fibodua poi Emma Dobluova, Mari Badalà, Cinzia Tosti adesso diciamo buona visione con il prossimo video degli Alex & Go non so quanto è orgoglioso bastava dargli solo una spintarella non so quanto è orgoglioso bastava dargli solo una spintarella senza se sei chi dici di essere togniti la maschera e canta giù la maschera Quindi ora che sei diventata imperatrice del mondo la capitale la chiamerai Nicolopoli.